Arriva anche in Campania IT Alert, il nuovo metodo della protezione civile per avvisare i cittadini qualora ci fossero rischi imminenti causati da terremoti, alluvioni o altre calamità. Si tratta di un esperimento, una prova generale, che coinvolgerà i cittadini campani alle ore 12 di domani 12 settembre. A quell'ora i cellulari emetteranno un suono particolare che sarà soltanto la prova per un eventuale accadimento futuro. Con questo sistema, dicono dalla direzione operativa, saremmo in grado di informare tutte quante le persone nel momento in cui si trovano all'interno di un'area potenzialmente a rischio. È un metodo nuovo che sfrutta le più recenti tecnologie per rendere ancora più sicuro il paese e soprattutto per intervenire in maniera tempestiva qualora ci siano emergenze. Ma cosa dovrà fare il cittadino? Assolutamente nulla. Innanzitutto, non ci sarà da aver paura perché sarà soltanto una prova generale il cui scopo è perfezionare l'IT alert. Una volta ricevuto il messaggio, si dovrà dare conferma, semplicemente toccando lo schermo. Conferma di averlo ricevuto perché ci interromperà tutte le altre funzionalità in quel momento attive sul cellulare. Una volta fatta questa operazione, il telefono riprenderà le proprie funzionalità nella normalissima consuetudine. Dalla Protezione Civile Nazionale si ribadisce alla popolazione di rimanere tranquilli, dato che si tratta di una semplice, quanto importante, esercitazione, utile a mettere a punto uno strumento di enorme importanza per la sicurezza di tutta la popolazione.